Ciao a tutti, io sono Serena Selva, sono la responsabile di Naba, nuova accademia di belle arti di Milano, per quel che riguarda i programmi internazionali come l'Affiliate Package Certificate Program, che è stato adottato da questa istituzione e tutti gli studenti che partecipano e che frequentano il corso di design qui in Portogallo avranno la possibilità di seguire questo certificato e solamente questa istituzione ha la possibilità di offrire questo programma ai suoi studenti. Cosa vi posso proporre è di venire in questa istituzione a studiare design e in futuro poter anche visitare e seguire un corso in Naba in Milano.